Bentornato sul canale youtube di semprefarmacia.it. Le analisi delle urine sono uno strumento molto importante Per aiutare il medico a valutare lo stato di salute del paziente Spesso però troviamo nel referto alcune diciture che ci allarmano, senza capire bene cosa significa E risulta anche un po' difficile chiedere spiegazioni in merito Un esempio è quello dei leucociti nelle urine Ma cosa sono questi leucociti, perché si ritrovano nelle urine E a quali sintomi è associata la loro presenza? Lo scopriamo in questo video, se il video ti piace metti like e ricordati di iscriverti al canale A te non costa nulla, ma a noi è di grande aiuto I leucociti o globuli bianchi sono cellule del sistema immunitario che ci difendono da aggressioni esterne Come virus e batteri Vengono prodotti nel midollo osseo, ma si possono trovare nel sangue e in altri organi e tessuti Ne esistono diversi tipi Basofili ed eosinofili di solito sono coinvolti nelle reazioni allergiche I linfociti T e B costituiscono la memoria del nostro sistema immunitario E lo attivano quando riconoscono un nemico già visto in passato I macrofagi sono gli spazzini che fagocitano i nemici per distruggerli E i neutrofili sono i globuli bianchi in maggior numero nel nostro organismo E che costituiscono la prima difesa contro le infezioni Il valore di leucociti considerati normali nelle urine è assenti o inferiori a 5 Nel campo visivo adatto a ingrandimento del microscopio che viene utilizzato in laboratorio Questo valore che sembra tanto piccolo in realtà corrisponde ad un limite di 10.000 globuli bianchi per millimetro cubo di urina Chiaramente come sempre ricordiamo che per la valutazione dei referti bisogna tenere in considerazione i valori di riferimento Che possono variare da un laboratorio all'altro Quando nelle urine viene rilevata la presenza di leucociti questi sono in maggior parte neutrofili E la loro presenza indica che il sistema immunitario sta reagendo ad un'infezione Le possibili cause di presenza di leucociti nelle urine quindi sono principalmente le infezioni Come infezioni della vescica, la cistite o dei reni, la pielonefrite Ma la presenza di leucociti nelle urine può dipendere anche da malattie di natura infiammatoria Quindi infiammazioni dei reni come la glomerulonefrite oppure di altri tratti delle vie urinarie Ad esempio un'oretrite provocata da malattie trasmissibili sessualmente Oppure possono essere dovuti dalla presenza di calcoli renali, di traumi, lesioni o tumori Come sempre per la diagnosi bisogna rivolgersi al medico Se le analisi sono state prescritte dal medico di medicina generale è probabile che si venga rindirizzati ad un urologo In generale la sola presenza di leucociti nelle urine non associata ad alcun sintomo e ad altri valori alterati nelle analisi Potrebbe anche essere una condizione da non tenere in considerazione O considerata quasi fisiologica in alcune situazioni, ad esempio in gravidanza Invece in presenza di altri sintomi il medico potrebbe anche decidere di procedere ad altre indagini I sintomi a cui prestare attenzione sono febbre, urine scure o malodoranti, dolore all'addome o alla schiena La sensazione di dover urinare spesso e il dolore e il bruciore durante la minzione In questi casi è facile che il medico richieda anche l'urinocoltura con antibiogramma Per individuare la presenza di batteri e quale antibiotico è meglio utilizzare Oppure di indagini strumentali come l'ecografia Una volta individuata la causa della presenza dei leucociti nelle urine Il medico prescreverà la terapia adeguata Ad esempio in caso di infezione batterica prescreverà un antibiotico indicato dall'antibiogramma E è molto importante quando si fa una cura antibiotica rispettare posologia e durata del trattamento Proprio per evitare non solo le recidive ma anche l'instaurarsi di antibiotico resistenza Oltre alla terapia farmacologica per facilitare la guarigione è importante seguire alcuni consigli Come bere molta acqua per diluire l'urina e diminuire l'infiammazione Evitare sostanze che peggiorano l'irritazione come alcol, caffeina, cibi acidi e piccanti e bevande gassate Avere una corretta igiene intima, non trattenere la pipì e utilizzare biancheria di cotone e di colore chiaro Abbiamo visto cosa sono i leucociti e perché si possono trovare nelle urine Se hai domande lascia un commento Un saluto dalla dottoressa Valentina di Semprefarmacia.it La tua farmacia sempre con te